690.000 euro per interventi di manutenzione e riqualificazione dell'area del Foro Boario di Ragusa. Notizia arrivata direttamente dal Presidente del Collegio dei Deputati Questori della Regione Siciliana, Giorgio Assenza, che permetterà interventi di manutenzione e riqualificazione dell'area del Foro Boario. Finanziamento subito commentato anche dal Vice Sindaco, con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra, che afferma questo intervento per il quale abbiamo ottenuto un cospicuo finanziamento, rientra certamente tra quelli previsti nel programma dell'amministrazione Cassì. Infatti, insieme al primo cittadino, abbiamo lavorato per Fassì che venisse definito un progetto di riqualificazione complessiva dell'area comunale di contrada annunziata affinché possa accogliere nel migliore dei modi diverse attività. Non possiamo quindi non ringraziare la Giunta regionale con in testo il Presidente regionale Nello Musumeci, l'Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e l'On. Giorgio Assenza per l'attenzione mostrata per il territorio ebreo. Il progetto di manutenzione e riqualificazione continua alla licitra dell'area del Foro Boario di Ragusa. Prevede la rimozione della copertura esistente in cemento armato dalle stalle, il trasporto e lo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa specifica. Le lastre vengono sostituite con lastre in fibro, cemento simili per tipologie e colore a quelle già esistenti. Nell'ottica di qualificazione dell'area saranno quindi eseguite le demolizioni del manufatto e dello scaricatore in calcio estruzzo per consentire il collegamento tra le aree espositive e del portale ingresso visitatori. Nell'area espositive inoltre, al fine di consentire l'accorpamento funzionale delle pensiline e garantire l'utilizzo in modo unitario, è previsto il raccordo della copertura delle stesse con strutture metalliche che verranno ancorate alle strutture esistenti in modo da realizzare una copertura continua. Le strutture di collegamento saranno coperte, aggiunge ancora l'alicitra, con lamiera aggregata e l'astere traslucide con possibilità di installare successivamente i pannelli fotovoltaici. Inoltre, in corrispondenza dei prospetti nord e sud dell'area espositiva, è prevista l'installazione di teli in PVC con funzione di protezione dell'area solo durante gli eventi. Programmata anche la sistemazione delle aree destinate a parcheggio con la fornitura e posa in opera di Ghiaia. Sarà eseguita la pavimentazione stradale con bitume nelle aree ammalorate. L'opera pubblica sarà completata con l'installazione di pennoni per il sostegno delle bandiere degli stati dell'Unione Europea, dell'Europa e della regione siciliana e la sistemazione dell'area verde con la piantumazione di alberi e cespugli fioriti.